Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Harry Potter, l'ascesa dei mangiamorte, gioco di carte cooperativo molto interessante, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio immensamente per la copia fornita. Un gioco per tutti gli amanti di giochi di carte, ma in particolar modo per gli amanti della saga di Harry Potter. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Harry Potter, l'ascesa dei mangiamorte, edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco cooperativo di carte da 2 a 4 giocatori, della durata media di 60 minuti a partita ed età dagli 11 anni in su, perché è un gioco ragazzi veramente veramente molto semplice, e come vedete qui davanti, ma poi ve lo farò vedere da vicino nel corso del video, e cosa bellissima, all'interno c'è una statua di 10-11 cm di Voldemort, tra l'altro già dipinta, anche perché insomma i colori per dipingere lo sono veramente pochi, che è veramente molto interessante. Fondamentalmente non è un gioco di miniature, è un gioco di carte, quindi avremo la nostra mappa di gioco, compresa di varie location da visitare, e al posto centrale ci andrà messo sempre Voldemort. Infatti questa bella miniatura è messa soprattutto per figura, perché poteva essere sostituita anche da una carta, ma non avrebbe fatto lo stesso effetto che vedere Lord Voldemort al centro e al comando dei suoi mangiamorte. E il gioco come regolamento ragazzi è veramente semplicissimo, perché come detto poc'anzi avremo queste locazioni, dove noi all'inizio del turno, in questo gioco puramente cooperativo, dovremo andare a decidere dove ci sposteremo. Quindi sceglieremo una locazione di quelle presenti sulla mappa, quindi magari vado a diagonale o magari vado da un'altra parte, e in queste locazioni dove andrò ci saranno sempre dei personaggi, dei maghi o delle streghe schierate sul tavolo, che potranno essere arrolati, oppure nel caso fossero le mangiamorte andranno sconfitti. Sempre nel turno noi abbiamo ovviamente la nostra plancia di gioco, che ci dà delle azioni, e anche nella nostra parte del tavolo abbiamo tutti quanti i nostri maghi schierati del nostro team, perché i maghi ci daranno la possanza in battaglia, avranno delle abilità speciali, lo stesso la nostra plancia della nostra sezione avrà delle abilità speciali, ma soprattutto andremo a fare attacchi e punti ferita, perché quando noi all'inizio del turno abbiamo i nostri quattro dadi e li andammo a tirare, a seconda dei risultati che escono su questi dadi, noi potremo andare a fare danni ai mangiamorte, quindi sconfiggere mangiamorte nella location dove siamo, oppure utilizzare i vari bonus e le abilità di tutti i maghi che abbiamo, gli incantesimi per capirci. E con questi incantesimi potremo fare diverse cose, come ad esempio togliere la corruzione da un posto, perché la partita perde quando un posto ha troppa corruzione, e quindi praticamente ormai Lord Voldemort e il suo esercito di mangiamorte hanno vinto la battaglia, oppure quando iniziano a morire troppi maghi, quindi quando troppi maghi vengono sconfitti, hanno vinto le armate del lato oscuro, e fondamentalmente la partita è persa, Voldemort ha vinto e avremo perso Hogwarts, ma soprattutto il regno magico. Quindi quello che noi dobbiamo fare giocando in cooperativa è fare il possibile per sconfiggerli, avere una mano di maghi potente, per andare poi a fare la battaglia finale direttamente all'old Voldemort, quindi il gioco ragazzi è veramente veramente molto facile, ed è bellino perché all'inizio del turno si va anche a tirare il dado di Voldemort, lo tiriamo, e dopo averlo tirato potrebbero uscire tre risultati, uno che lo fa ruotare in senso orario, uno che lo fa ruotare in senso anti-orario, e uno invece che fa attivare tutte quante le abilità di tutti i mangiamorte in tutte le location, perché quando noi andiamo ad affrontare mangiamorte in una locazione, se lui è girato nella locazione e sta puntando, vedete il fronte qui davanti in dischetto, lui sta puntando il fronte nella location dove siamo noi, con i nostri maghi e la nostra pedina e il nostro personaggio, tutti quanti mangiamorte in quella sezione si attivano e quindi ci attaccano, ma non soltanto perché se dovesse uscire sul tiro di dado, anche quel risultato che li fa attivare tutti quanti, non si attiveranno solo quelli che abbiamo davanti, ma anche tutti quelli nel resto delle location, e quindi comunque bisogna anche stare attenti al risultato che viene fuori. Concludendo, Harry Potter, l'ascesa di Mangiamorte, ancora una volta cura di Asmod Italia per la versione italiana, è un gioco velocissimo alla portata di tutti i ragazzi dagli undici anni in su, quindi veramente ad esempio vostro figlio gli è piaciuto la saga, gli è piaciuta la saga, i film di Harry Potter, e soprattutto quelli dove vengono citati Lord Voldemort e Mangiamorte, Mangiamorte, in questo gioco si divertirà da morire perché è un gioco semplice, velocissimo, il regolamento sono tre pagine, tre, c'è anche una quarta che ci spiega un po' l'utilizzo delle abilità, ma tanto sono scritte sulle carte, tre pagine di regolamento è il classico gioco che apri, ci si mette un attimo a legge il regolamento, venti minuti dopo l'acquista averlo portato a casa si inizia a giocare, quindi per me è un gioco per tutti e farete divertire tutti. Ancora una volta grazie ad Asmod Italia per questa copia fornitami, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sove impressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista ma è finito o non lo trovate, mandate una mail al supporto a Corrado, il proprietario della Gioco Libreria Semola, e fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Lui, se l'ha finito oppure proprio non ce l'ha in catalogo, farà il possibile per farvela avere al miglior prezzo sul mercato. Usate sempre il codice discount Coridan7, tutto scritto maiuscolo Coridan7, perché avrete uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79€, spese postali gratuite in tutta Europa, quindi li potete ordinare anche se non abitate in Italia, ed è veramente un servizio impeccabile. Quindi, in conclusione, è un gioco assolutamente per tutti, per gli amanti di Harry Potter forse di più, però per me non soltanto. Il classico gioco di carte cooperativo, veramente, veramente veloce, e poi anche la componentistica, come vedete, è di alta qualità, è veramente molto interessante. Ciao ragazzi, alla prossima!